Allora ok, eccoci arrivati, i filafonici indicati, li vediamo sempre con esclamative di rombo, qui adesso non li vedo, attenzione, eccolo qua uno qui, quindi esaminiamo le carte, eccola qua la carta che è in terra Ok, dobbiamo trovarle semplicemente tutte e tre, una potrebbe essere di qua, vediamo Ok no, potrebbe essere fuori, andiamo a vedere Allora, sembra essere qui Andiamo a vedere qua sotto Ok, al momento non la vedo, andiamo a prendere quest'altro Allora, andiamo a vedere questo di qua Ok, andiamo a salire e andare dentro Vediamo anche la porta Allora, qui dice, potrebbe essere qui dentro Un po' Sì, eccolo qua Sì, amminiamo anche questa carta Allora, sta arrivando un avversario Ok, ora è pronto Aprire questo Ok, ora sono tutti qua Lo scudo Allora, sembra è Allora, sembra è Potrebbe essere sopra Vediamo se è qui dentro Vedo Allora, esattamente qui Intanto apriamo anche Andiamo a vedere se è sopra Allora, sopra Allora, si sia nel tetto Allora, si sia nel tetto Allora, qui non vedo Allora, qui Allora, qua Allora, qua Allora, terra Questi dati sono Catastrofici Forse Le opere proibite Dei nostri saggi in esilio Avranno le risposte Che cerchiamo Allora, qui